Ciao Nassar, prepara il tuo pacco per l'autolavaggio diamante a Montecchio perciò ti ho consigliato questo prodotto che è sempre il 5 megapixel 48 led stupendi, staff integrata, sensori di movimento, allarmi, sensore facciale, riconoscimento facciale come vediamo 4 ingressi audio, 4 canali, HDMI, VGA, completa di tutto applicazione XMEI, la migliore che c'è, hai scelto il kit da 4, quindi DVR da 4, 4 telecamere, 4 cavi abbiamo anche i cavi, su questi qua sono da 20 metri, alimentazione, staff, quindi diamo tutto quanto compreso del prezzo in più tu hai scelto l'optional dell'hard disk, l'hard disk è già stato montato come si vede, già è dentro, è stato configurato e montato quindi già sarà tutto pronto all'uso, adesso lo confezioniamo e arriva subito da te, grazie ancora